Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui a questa conferenza stampa. Il Movimento 5 Stelle di Nucena Inferiore ha illustrato le sue idee per il rilancio della raccolta differenziata in città. Ieri mattina nella biblioteca comunale il consigliere Vincenzo Spinelli, affiancato dall'europarlamentare Isabella Di Nolfi e dalle senatrici Felicia Gaudiano e Luisa Ingrisani, ha esposto le perplessità gliene in merito alla gestione dei rifiuti. Tutti concordi sull'importanza di sensibilizzare la cittadinanza a partire dalle scuole e dai quartieri, anche perché l'emergenza dei costi e soprattutto le incognite delle deroghe. I numeri nocerini, hanno detto i pentastellati, non sono rosei se rapportati a quelli di alcuni comuni vicini. Dai dati di Lega Ambiente e dei comuni ricicloni emerge che la differenziata a Nucena Inferiore è intorno al 53%, a Nucena Superiore al 75% e Roccapemonte all'80%. Esternazioni alle quali replica il sindaco Maglio Torquato. Ma lo sa quando ci siamo insedati il Movimento 5 Stelle quanto eravamo come differenziata quando siamo partiti? No, eravamo al 36%, al 34 barra e 6%, poi arriviamo al 36 nel 2013. Quindi essere arrivati in 4 anni al 53% credo che sia un risultato rispettabile. Certo non sufficiente perché dobbiamo incrementare la percentuale di differenziata. Io credo che bisogna fare i conti con la realtà. E bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni anche quando sono impopolari. Dico questo perché c'è una insana abitudine di tutte le parti politiche, in genere di buona parte delle parti politiche, alla ricerca del consenso facile. Allora si liscia il pelo al cittadino anche se si sa che molti cittadini non fanno il proprio dovere nel conferimento. Si liscia il pelo alle categorie commerciali perché portano, determinano ricchezza economica, anche se si sa che alcune, non tutte, delle categorie commerciali fanno delle crisi, dell'emergenza, rifiuti, il festival della monnezza, come ho detto. Per cui buttano di tutto di più. Si liscia il pelo alle società pubbliche, anche se si sa che in alcuni casi, in alcuni comportamenti, alcune società pubbliche, e noi abbiamo messo in piedi una società pubblica per i rifiuti, non altri. O meglio, noi abbiamo conferito quella funzione, anche se il mio parere era diverso all'inizio. Non fanno il loro dovere quando ci sono rivendicazioni sindacali come quelle che ho detto poc'anzi. E poi si attacca l'amministrazione. E io dico, ma insomma, un po' di buonsenso, un po' di serietà non guasterebbe. Grazie.